San Lorenzo Diacono del pontefice Sisto II e suo probabile successore fu imprigionato il 6 agosto 258 dalle guardie imperiali. Alla richiesta del prefetto di Roma di portargli i tesori della chiesa San Lorenzo, rispose organizzando una processione di povera gente. Il prefetto, sentendosi beffato, lo condannò a rogo, eseguito a fuoco lento. In onore del martire sono state edificate chiese in tutto il mondo. Sulla sua tomba a Roma Costantino fece edificare una basilica nel campus Veranus, che divenne una delle sette basiliche romane. Protettore della città di Grosseto, è patrono dei carbonai, dei cuochi, dei rosticceri e dei vigili del fuoco. E' invocato contro le lombagini, le malattie della pelle, le scottature, il colpo della strega e contro le pene del purgatorio.